54. Diventerà noi stessi. Quanti viaggi conviene fare? Commento. Conviene fare il viaggio del nostro intimo. Molte persone che appartengono alla nostra umanità hanno raggiunto la loro iniziazione senza visitare nessun angolo del mondo, restando nell'immobilità della loro vita. L'iniziazione è sepolta nell'intimo di ognuno. Quando si è pronti, una maggiore verità, ben più vicina e vivida di quanto abbiamo mai pensato, molto più bella ed appagante di quanto abbiamo mai sperato, diventerà noi stessi, in ogni angolo del mondo, che non abbiamo mai visitato.